Abbiamo tutto il filo, eh? Non si vede, ma c'è. Comincio proprio da Papi. Va bene? Sì, preghi rapido. Non chiederti permesso. Visto che, caro Samueli, ti hanno definito l'amoreto delle Olimpiadi. No? Quando ci sei tu, sei solo, ti porta sempre a casa una medaglia. Dai, lei. Una medaglia. L'altra volta non ce l'abbiamo portata. Vero? Quindi è scontato che sarei convocato per Rio. In che condizioni pensi di arrivare a Rio? Ma adesso che poi dovrebbe entrare l'ora in una ricezione, mi dico, si mormora, quindi si torna a ricevere l'imbaglia. Ma a Rio è libero. Ah, non lo so, vediamo. A Rio potrei arrivare in buone condizioni. No, dai, parti di scherzi. Chiudo qua. Penso che questa per me è stata un'esperienza bellissima, anche perché non me l'aspettavo, sinceramente. E poi ho fatto con il Presidente Magri, che ne avevamo parlato l'altra volta, affinché non smette il Presidente Magri, lo avevate anche io. Allora... 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 Allora...